L'errore di Ocean Drive già a molti metri dallo stacco, l'allievo di Angelo Nuti fuori corsa. Partiti con Giorgione Rell che ha dieci anni ma sembra un ragazzino perché vola al comando, si prepara a respingere Maci del Cigno, italiano GV, sedra subito sotto. 250 metri molto veloci, Giorgione vuole correre al comando, Maci insiste all'esterno, poi italiano GV, Rush di Pippo e via via tutto il gruppo. Quanti cavalli hanno percorso? I primi 400 metri con in quinta posizione lunghi paletti. Oster Baba, cavalli che vengono davanti ai tribuni, Maci insiste in un attacco che non so se potrà andare a buon fine, costringe Giorgione RL ad allungare, passano in 43 sette i primi 600 metri, poi italiano GV, Rush di Pippo, Sterbaba, Naldo Benal e Oldavana Dei. 900 metri alla conclusione, la lotta fra i primi due prosegue, Giorgione sempre in vantaggio, completa gli 800 metri iniziali in 58 e 9, a questo punto Maci del Cigno dice il basso, ma il suo guidatore si elimina in rottura. Italiano rimane in seconda posizione, più indietro in terza, Orange di Pippo, avanti Oster Baba e Naldo Benal e Oldavana. 13 e 3 il lancio, Giorgione ha speso molto per essere dove, però continua 1 e mezzo avanti a italiano GV, poi dal fondo superando Orange di Pippo e anticipando Naldo Benal, viene avanti Oster Baba, 350 metri alla conclusione, con Giorgione in vantaggio, italiano nella sua scia, Oster Baba che si libra di Orange di Pippo ma sembra essere sopraffatta all'esterno da Naldo Benal che può inscenare la sua notevole progressione finale, addirittura Giorgione in vantaggio, italiano in seconda posizione, Naldo Benal in mezzo alla pista che avanza fortissimo e sembra poter passare. Nel finale Naldo Benal viene a vincere facile per il secondo posto, terminano sulla stessa linea lo strenuo Giorgione RL e poi italiano GV e Oster Baba. Vediamo lo slow, nitida la vittoria di Naldo Benal, il 10 al primo posto, per quanto riguarda le miglior piazze, mentre il giudice d'arrivo ricorre alla foto, 14 secco per Naldo Benal, il vostro cronista si sbilancia, dice 529 per il secondo, terzo e quarto posto, però il giudice d'arrivo prudenzialmente va alla foto per tutte e tre le piazze, dal secondo al quarto. Bella vittoria di Naldo Benal in 1,14, fortunata anche dallo scriterato attacco di Maci Delcini a Giorgione, estreno il decennio di Daniela Nobri, probabilmente a secondo posto avanti a italiano GV e Oster Baba, non gettati i biglietti, attendete l'esito della fotografia.